Siamo con Roberto Cerrato di Proteggere Insieme, è l'occasione dei 20 anni di questa organizzazione organizzando una grande manifestazione di protezione civile alla quale parteciperà anche il prefetto Franco Gabrielli che è il direttore del Dipartimento. Cosa ci dici di questa iniziativa che si terrà dal 19 al 22 marzo? È una grande iniziativa, una grande esercitazione di protezione civile, oltre 1500 volontari che proverranno da oltre 15 regioni italiane, un momento davvero importante per noi perché sancisce i 20 anni di attività del nostro sudalizio. Noi grazie a questa esercitazione potremo provare davvero a testare tutte le nostre strutture, tutte le nostre attrezzature e soprattutto lavorare insieme a tanti volontari come forse non è mai stato ad Alba e nel nostro territorio. La soddisfazione sarà quella di avere la visita del capo al Dipartimento della Protezione Civile, il prefetto Franco Gabrielli che dovrebbe confermare la sua venuta ad Alba il 20 marzo nella mattinata per vedere alcuni momenti di questa grande iniziativa. Speriamo vada tutto bene, noi ci teniamo molto, abbiamo cercato di coinvolgere anche tutte le organizzazioni di protezione civile del territorio perché comunque nulla è mai così importante come nell'ambito della protezione civile condividere tra volontari questi bei progetti. Grazie da Grander.net. Grazie. Grazie.